Scrive all'Università di Diritto in Bologna, dove si laurea brillantemente in quattro anni. Nel 1934, mentre in Germania Adolf Hitler instaura un regime editoriale e si proclama Führer, Dossetti si trasferisce a Milano all'Università La Cattolica, il cui fondatore e rettore è padre gemelli. Qui approfondisce gli studi di storia e diritto e incontra Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira e Amintore Fanfani, con i quali si riunisce a casa del professor Padovani a discutere della situazione politica e sociale. Nel 1939 inizia la Seconda Guerra Mondiale. Dossetti è convinto che l'Italia perderà la guerra e l'8 settembre del 1943, dopo l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate anglo-americane, si rifugia a Capriago, dove anche per lui si avvicina all'ora di salire sui monti insieme ai partigiani. Appena finita la guerra, io ho ripresi i miei pensieri. Per un momento pensai a se si è morto, però più tra l'altro. Ma ci fu una ragione che è comunque un momento in suono. Grazie a tutti i nostri amici. 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 a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. 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 e poi Don Giovanni. a tutti i nostri amici. Dossetti è arrivato a tutti i nostri amici. 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 su a tutti i nostri amici. e tutti i nostri amici. e lì io l'ho conosciuto. insomma in quel periodo. e poi sono stato lì e poi sono stato lì e poi sono stato nel periodo in cui è stato in curia come provicario. sono stato un suo collaboratore. e va bene, va bene, va bene. e sono stato il mio amici. In confidenza, ma per me è sempre stato un punto di riferimento importante anche per alcune scelte. Io ricordo il mio voto sulla prima guerra del Golfo è stato un voto in rappresentanza per conto di sostanzialmente. Lui non mi ha mai chiesto niente, però eravamo in contatto continuo, ricordo ancora quella nottata lì perché si votava di notte, perché si aspettava il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzasse l'intervento e alle 3, alle 4 del mattino mi ha fatto una telefonata drammatica, non mi ha mai chiesto niente, ma mi metteva di fronte alle mie responsabilità. Per cui è stato un privilegio poter avere un maestro di lettura storica in quel momento particolare. E io mi rendevo conto che alla fine il mio atteggiamento era visto soprattutto all'interno della democrazia cristiana, che era il partito di maggioranza che sosteneva il governo. Il governo era di Andreotti, un Andreotti che non era molto convinto di dover fare quell'intervento, ma lo fece perché era il capo di un governo di un paese occidentale molto importante. Quindi se si fosse sottratto all'Italia a quel tipo di collaborazione all'interno della Nato e dunque all'interno del voto delle Nazioni Unite sarebbe stato un problema. Però, per dirvi qualcosa di particolare, io ricordo che assieme ad altri due colleghi che avevano votato con me contro quell'intervento, dopo quegli episodi, adesso il nome non me lo ricordo, come si chiamava Ciccolone, un nome di questo genere, era un... Ciccolone, sì. Vabbè, insomma... Cocciolone. 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 Vabbè, erano due sotto ufficiali italiani che guidavano un elicottero, insomma anche furono colpiti, eccetera, eccetera. Allora andammo, ecco, una era la Lucia Fronza che era esponente dei Focolarini, l'altro era un altro di Trento che era Luciano Azzolini e siamo andati da Andreotti e allora gli abbiamo chiesto, ma insomma adesso le nostre truppe, lei quando il Parlamento ha votato ci ha dato garanzie che l'Italia non avrebbe mai assunto un'iniziativa di aggressione, insomma che cosa stanno facendo? E lui, chi ha conosciuto Andreotti sa che parlava un po' così quando non voleva farsi capire, dice ma insomma Agnelli... E allora gli abbiamo chiesto, ma c'entra la Fiat anche qui? Perché insomma... No, dice, le nostre navi fanno dei trasferimenti di greggi, quindi noi ci occupiamo di fare dei servizi assolutamente insignificanti, siamo là ma insomma noi non bammardiamo. E questo per dire che, insomma perché nei vecchi democristiani, a prescindere dalla loro collocazione correntizia, il tema del rapporto con la guerra è sempre stato un tema, un problema. E quindi mi ricordo ancora che io votai contro anche nella direzione, siccome ero membro della direzione nazionale, e quando votai contro il segretario del partito di allora, un altro che era su posizioni moderate, che era Arnaldo Forlani, uscendo dalla sala della direzione della DC mi ha detto Se io avessi la tua libertà voterei nello stesso modo, perché anche Forlani è stato uno che era presente a Rossena, e Rossena è un castello nel Reggiano, nelle colline reggiane vicino a Canossa, insomma in cui Dossetti era solito riunire a fine settimana i suoi amici, insomma nell'ultima riunione c'era anche Forlani. Questo per dire che anche gli uomini più moderati della DC avevano una qualche storia, un qualche pezzo di biografia che li rendeva di fronte a scelte di questo genere sempre molto problematici. Va bene, insomma quindi il mio rapporto con Dossetti è così. Però siccome ci sono dei giovani e siccome mi hai chiesto di dire qual è stato il ruolo nella politica di Dossetti, cercherò di dire tre o quattro pensieri e poi dopo ci mettiamo tutti in ascolto di Don Giovanni. Dossetti arriva all'impegno politico quasi casualmente, ha fatto la resistenza, nel senso che ha partecipato alla resistenza come lotta militare, però è riuscito a fare la resistenza disarmato. Lui, un altro deputato della provincia di Reggio che si chiamava Pasquale Marconi e un deputato della provincia di Ravenna che si chiamava Benigno Zaccagnini. Sono i tre cattolici che hanno fatto la resistenza disarmati. Qualcuno dirà, eh, mi è stato detto qua, a questo punto quando racconto queste vicende c'è sempre qualcuno che dice, lasciavano fare il lavoro sporco agli altri. Allora, per essere precisi fino alla fine, partecipavano a tutte le azioni militari disarmati, cioè correndo più rischi degli altri compagni che erano armati. Per dimostrare che non delegavano ad altri, insomma, il cosiddetto lavoro sporco. Però stavano dentro, guidavano le operazioni, perché il loro obiettivo era quello sì di combattere il nazismo, di combattere il fascismo, ma di combatterlo con gli strumenti militari, come dire, a misura di necessità. Senza, pensando sempre anche alle reazioni, alle rappresaglie. Sono stato recentemente a ricordare Gorieri a Modena e Gorieri diceva, insomma, alla fine la Repubblica di Montefiorino, quella era la differenza fra noi e i comunisti. E che noi ogni volta che si stava lì a definire un intervento militare, ragionavamo sulle rappresaglie possibili. Ecco, e quindi, perché poi questo è il proprio anche della politica, pensare agli effetti delle scelte che si fanno. E quindi, quando proprio è indispensabile, la devi fare, ma è l'ultima razio. Ma devi farti calico che, insomma, non succeda che poi c'è una rappresaglia che colpisse tutte le popolazioni civili. Assolutamente incolpevoli. E pensate che l'apporto dei cattolici alla resistenza, lo dico qua perché anche qua ci sono state delle montagne e ci sono stati dei partigiani, le Fiamme Verdi a Brescia, non so come si chiamassero a Bergamo, insomma, no? Teresio Livelli che era di queste parti, insomma, no? Ecco. E qual è stato l'apporto politico dei cattolici alla resistenza? E, insomma, intanto è stato un marchio di garanzia. Gli alleati hanno accettato di paracaudutare le armi alla resistenza perché c'erano anche i cattolici che garantivano che ne sarebbe stato fatto un uso misurato, insomma, no? Ecco. E poi avevano accreditato, come dire, la serietà della resistenza. Giorgio Bocca, che era un comunista, dice che senza le canoniche noi non avremmo fatto la resistenza. Perché dov'è che ci andavamo a rifugiare in montagna? Senza i preti e senza le canoniche noi non avremmo potuto fare la resistenza. Quindi bisogna anche inquadrare, insomma, no? Il ruolo dei cattolici nella resistenza. Però perché c'era un'impronta originale per cui Dossetti entra nella resistenza con questo stigma. Finita la resistenza per un puro accidente viene inviato a Roma dove si svolgeva il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Ebbe un incidente a Grosseto perché allora non c'era l'autostrada del Sole e a Grosseto venne ricoverato perché era un trauma cranico, insomma, no? Dopo tre giorni l'hanno dimesso, è arrivato a Roma e dice vai da De Gasperi che ti deve dire qualcosa. E quando va a De Gasperi, De Gasperi gli dice volevo dirle che, perché si trattavano di lei, volevo dirle che l'abbiamo nominata vice segretaria nazionale della DC. E lui comincia a dire ma insomma chi vi ha autorizzato? Ma lei non mi conosce e io non conosco lei. Come si è permesso? E allora a un certo momento dice ma abbiamo pensato di mettere un resistente del nord e uno del sud, al sud Bernardo Mattarella che è il papà di Sergio Mattarella e al nord lei perché c'erano diversi comandanti partigiani, mettevamo Mattei, mettevamo Taviani, mettevamo chi, insomma, creavamo dei problemi, con lei erano tutti d'accordo perché insomma non aveva nessuna ambizione di essere un capo militare, insomma aveva queste caratteristiche di essere un giovane studioso e basta. No, io mi dimetto. E allora De Gasperi gli dice no, per favore non lo faccia perché ricostruire un equilibrio in questo modo. E allora ha accettato di rimanere fino alle elezioni di un congresso regolare che si sarebbe dovuto svolgere sei mesi dopo. E quindi comincia così, per caso, quando lui dice per caso, vice segretario dell'ADC senza essere iscritto all'ADC, nominato in contumacia e non avendo mai aderito a questa nomina. Quindi per caso. E per caso arriva l'Assemblea Costituente. E all'Assemblea Costituente prende in mano il pallino e a un certo momento diventa uno dei registi della tessitura costituente. E' un protagonista. Adesso frego Don Giovanni perché Don Giovanni, insomma è sempre piuttosto restio a raccontarla, ma insomma siccome gli è scappato a detto una volta, io la uso sempre. Don Giovanni, nella sua esperienza di giovane prete che faceva all'inizio anche l'autista di chi non aveva la patente, a Don Giovanni è capitato di assistere casualmente a un colloquio fra Dossetti e Lapira in macchina. Lui accompagnava questi due personaggi già costituenti famosi da Bologna a Firenze. E durante il viaggio Giorgio Lapira dice a Dossetti ma mi vuoi raccontare come andò a finire quella roba là di quel colloquio con Togliatti che tu hai avuto all'inizio del dibattito costituente? E allora lì hanno ricostruito e lui ha ascoltato, ha fatto finta, lo gnorri faceva finta di guidare, di guardare avanti, ma di non ascoltare, insomma quasi, non so se gli abbiano chiesto anche di star zitto, però poi a un certo momento l'ha raccontato. E a un certo momento, questo è un episodio significativo per capire il ruolo di Dossetti. A un certo momento voi dovete sapere che all'inizio l'assemblea costituente non riusciva a partire. Erano passati due mesi, non andavano d'accordo e a un certo momento Dossetti presenta un ordine del giorno e dove minaccia di metterlo ai voti. In questo ordine del giorno c'è scritto, vabbè chiediamo a un rappresentante di una posizione, quella laica socialcomunista e un rappresentante dell'altra posizione, quella cattolica, di raccontarci che idea di democrazia che hanno in mente gli uni e gli altri. E allora incaricarono Lelio Basso per i laici socialcomunisti e Giorgio Lapira per l'area cattolica. E alla fine, ognuno parlò un'ora, alla fine la disperazione in assemblea costituente, perché le posizioni si erano allontanate ulteriormente, perché ognuno cercava di sottolineare il proprio della loro posizione, della propria posizione. E così avvenne e a un certo momento, scendendo le scale della platea di Montecitorio, Dossetti incontratò gli atti e gli diceva lei sarebbe disponibile domattina a vederci e si vedono in modo riservato, diciamo clandestino, in un bar in fondo a Via del Corso, vicino a Piazza del Popolo, di fronte alla chiesa di San Giacomo, questo bar sono andato a verificare, c'è ancora, e a un certo momento Dossetti dice in quell'incontro guardi, onorevole Togliatti, io le ho chiesto di incontrarla perché prima di far fallire la costituente dobbiamo mettercela tutta, proviamo ad accordarci noi due sull'articolo 1, sull'incipi, da dove partiamo. E allora Dossetti che sollecita Togliatti e Togliatti dice ma sa, ma provi lei a dire perché lei è più giovane e Dossetti che dice a Togliatti, no ma lei che è più esperto, io sono qua casualmente, passavo di qua ma insomma non c'entro, mentre lei la politica la sa e come, provi a fare una proposta, vabbè, prima lei, prima lei e Dossetti rompe gli indugi e dice io propongo di inserire l'articolo 1 come incipit la centralità del lavoro ma lei lo fa per compiacere le mie posizioni, dice Togliatti perché sa che io sono comunista e quindi lavoro, eccetera e dice no no, io lo faccio per compiacere le mie posizioni, non le sue perché, guardi, per me quando è che un individuo diventa una persona? Quando acquista la dignità e cos'è che dà dignità all'individuo per farlo diventare persona? Il lavoro. Se l'individuo, quando va a casa, tiene gli occhi bassi, non può guardare negli occhi la moglie e i figli perché non ha il lavoro, non può mantenerli, eccetera, è un uomo senza dignità se invece ha il lavoro, ha la dignità, è veramente una persona io sono per dare un'impronta personalista al testo costituzionale e quindi io arrivo alla centralità del lavoro per questo percorso lei ci arriva per l'altro percorso della lotta di classe, eccetera, eccetera come vede ci incontriamo perché l'importante è essere d'accordo sul punto da prodo non sul punto di partenza e questo deve essere il metodo con cui scriviamo la Costituzione sappiamo da dove venite voi voi sapete da dove veniamo noi e però lasciamo stare ecco, non continuiamo a condannarci a vicenda ci troviamo d'accordo? Guardi che se facciamo questa cosa del lavoro noi facciamo una rivoluzione più della rivoluzione francese perché nella rivoluzione francese la centralità del lavoro così espressa non c'era ma neanche nella Costituzione di Pericle 500 anni avanti Cristo dove gli uomini liberi, cioè i cittadini erano gli uomini liberi cioè quelli per i quali c'erano altri che lavoravano per rendere liberi loro per cui quelli che lavoravano erano gli schiavi e i liberi erano i cittadini lavoravano per rendere liberi altri invece in questo modo capovolgiamo chi lavora è cittadino capovolgiamo il principio di 2500 anni di storia costituzionale e allora cominciano ad appassionarsi a questa cosa e a un certo momento si fidano per modo di dire l'uno dell'altro e Togliatti dice ma insomma mettiamo nero su bianco chi sono per voi i lavoratori che diventano cittadini e allora scriviamolo scriviamolo e allora cominciano a dire gli operai, i salariati, i braccianti gli insegnanti bla 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 tutti e poi a un certo momento arrivano agli artigiani e arrivano ai commercianti e Togliatti dice ma insomma questi sono lavoratori o sono imprenditori è il lavoro autonomo e allora lì si incagliano e Togliatti dice guardi sospendiamo un giorno e io sento di Vittorio che è il rappresentante comunista nella terza sottocommissione Dossetti e Togliatti erano nella prima sottocommissione quella dei principi fondamentali e Dossetti accede anche perché nella terza sottocommissione c'era anche Fanfani e quindi dice lei sente di Vittorio io sento Fanfani Fanfani sarà poi quello che materialmente scrive il testo dell'articolo 1 e di queste robe siamo già usciti dal bar di Via del Corso di queste robe c'è traccia negli atti dell'Assemblea Costituente che sono tutti digitalizzati nel sito della Camera trovate tutto c'è un dibattito interessantissimo perché viene riprodotto e a un certo momento cominciano a scrivere e allora alla lista cominciano ad aggiungere artigiani, commercianti, piccoli operatori eccetera eccetera e poi c'è un sussulto quando Dossetti tira fuori una roba che fa andare nei matti Togliatti il lavoro orante oh ma cos'è questa roba dice Togliatti il lavoro orante se avete da garantire il diritto di voto ai preti per noi sono dei lavoratori come gli altri avremo delle riserve sul loro datore di lavoro ma che i loro lavori non ci piove no no non sono i parroci no 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 stia tranquillo non sono i parroci ma chi sono? sono ad esempio le monache di clausura e che cosa fanno le monache di clausura? pregano sarà mica un mestiere pregare sarà mica un lavoro pregare perché dobbiamo garantire la cittadinanza a queste monache che pregano vabbè problemi loro ma mi sembra un po' poco per avere il diritto alla cittadinanza e a quel punto negli atti è bellissimo negli atti all'assemblea costituente perché chiede la parola Moro e comincia una discussione perché Moro era un giurista non aveva neanche 30 anni Moro quando era la costituente e Dossetti ne aveva 33 quindi erano tutti dei ragazzi e quando mio figlio è arrivato a 30 anni gli ha detto adesso hai l'età di Moro alla costituente vedi un po' tu insomma di darti una mossa e vabbè insomma interviene Moro e comincia a disquisire Moro che era questo 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 ragionatore dice ma no ma sento non l'avevo togliati lei deve sapere che siccome il lavoro concorre al benessere della nazione e questo concetto sarà scritto poi all'articolo 4 della costituzione dice anche quelli che pregono danno un contributo che lei può anche non apprezzare immediatamente ma insomma la prego di riflettere danno un contributo di al benessere e all'armonia all'unità alla pace sociale della nazione beh si lassano non convinti l'uno dell'altro poi finalmente nella seduta successiva quando sostanzialmente avevano scoperto che nessuno voleva fregare l'altro hanno giustamente cancellato la lista e giustamente non c'è nel testo vabbè questo per dirvi che cosa ha fatto Dossetti all'assemblea costituente e quando quando scrive l'articolo lui è relatore dell'articolo 11 quello che la guerra non è uno strumento per risolvere le questioni internazionali e insomma cesso perché dovrei dirvi dell'articolo 7 dove pure è stato relatore Dossetti dovrei dirvi dell'articolo 2 dove ha dato la copertura massima alla pira insomma perché nell'articolo 2 i cattolici persero la loro battaglia nella sottocommissione della prima sottocommissione e andarono i voti e persero la pira e Dossetti e Moro persero nel senso che passò un testo che diceva la repubblica è fonte dei diritti fondamentali delle persone è fonte e loro votarono contro però Dossetti che era il più politicizzato della squadra dice qua bisogna la politica è fatta così bisogna che io vada a convincere i capi degli altri settori devo andare da Togliatti a spiegargliela da Nenni a spiegargliela da Benedetto Croce a spiegargliela da insomma no dagli altri che rappresentano dei pezzi importanti dell'assemblea costituente e cercò di dire loro che il concetto che sosteneva la Pira era più avanzato del loro perché il concetto loro quella della repubblica è fonte veniva direttamente dalla rivoluzione francese insomma ecco dove la repubblica è tutto la centralità della repubblica eccetera e a un certo momento c'è un bellissimo intervento negli atti sempre degli atti dell'assemblea costituente di La Pira dove dice io non accetto che la repubblica sia fonte dei miei diritti perché se c'è qualcuno se c'è una repubblica se c'è un parlamento se c'è un governo se c'è chi che sia che è fonte dei miei diritti se cambiano le condizioni politiche può revocarmeli perché se me li concede me li può anche retrocedere i cosiddetti costituzionalisti li definiscono i diritti octruaie i diritti concessi perché sono nato perché sono una persona perché vivo io ho diritto al lavoro alla cittadinanza alla salute alla scuola tutto quello che volete ma perché esisto e dunque ci sono dei diritti che sono precedenti quelli della repubblica e quelli della costituzione vengono prima e allora lì il genio di inserire quel verbo riconosce la repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali della in quel verbo c'è la genialità dell'apporto dei costituenti cattolici ma potrei proseguire l'articolo mi fermo solo per dirvi che la pattuglia dei costituenti cattolici che era sostanzialmente coordinata da Dossetti è stato il grande coordinatore insomma ha avuto un ruolo rilevante per ragioni storiche guardate io sono abbastanza vecchio da ricordarmi quando Leglio Basso è venuto a Reggio Emilia era segretario del PSUP e dice sono venuto volentieri qui a Reggio Emilia perché è la città di Dossetti quello che ci ha fregato ma l'ha detto in modo simpatico dice perché la verità è questa che durante il fascismo mentre noi eravamo nelle galerie questi qua erano nelle canoniche a studiare e quando sono arrivati all'assemblea costituente loro avevano un'idea di stato democratico e noi non l'avevamo e quindi hanno guidato la danza loro questo per dirvi Dossetti chi era è arrivato lì per caso e ha giocato un ruolo di questo genere ma vogliamo fare un passo indietro Dossetti politico se non ci fosse stato Dossetti probabilmente non ci sarebbe stata la Repubblica perché perché De Gasper che era il capo del partito di maggioranza aveva l'ossessione di non perdere i voti del Sud perché se il Sud avesse votato per la monarchia si chiamava fuori rispetto al processo di costruzione democratica del paese bisognava impedirgli di staccarsi dal resto del paese c'era il Sud e il Veneto che erano e il Piemonte che erano fondamentalmente monarchici e De Gasperi che aveva questo che dice di avere votato per la Repubblica ma comunque non voleva che la democrazia cristiana prendesse posizione voleva conservare un po' di ambiguità per catturare i voti anche di quelli di fede monarchica se non c'è Dossetti che era vice segretario è andato là e gli ha detto guardi Carlo De Gasperi io prendo posizione pubblica io faccio campagna elettorale per la Repubblica mi dispiace se sono in conflitto col segretario di cui sono vice segretario e si è messo Bernardo Mattarella al Sud e Mario Scelba al Sud che era segretario di Sturzo che a sua volta era repubblicano e al Sud venia battuto da quelli lì e al Nord Veneto e Piemonte venne battuto da Dossetti e poi alla fine la Repubblica prevale per quei due milioni di voti io sostengo che se non ci fosse stata questa determinazione di Dossetti probabilmente De Gasperi sarebbe stato ugualmente capo del governo ma di un governo non repubblicano e quindi mi commerito da poco è ovvio che voi potete dirmi ma insomma i comunisti hanno votato tutti compatti per la Repubblica certo è fuori discussione comunisti socialisti repubblicani azionisti hanno votato tutti quella è la base però chi faceva la differenza in quel momento era questa area e dunque e dunque ha giocato un ruolo importante anche per questo ma vi devo dire che se Dossetti non fosse stato Dossetti è stato in politica pochissimi anni lui nel 51 ha mollato tutto anche De Gasperi sarebbe stato diverso vi posso De Gasperi è stato sicuramente lo statista più importante del secolo scorso ma vi posso dire che perché ho letto ovviamente non ho potuto essere testimone ho letto i dibattiti all'interno della direzione della DC e del gruppo parlamentare della DC quando si discuteva se aderire al patto atlantico una parte della DC e una parte del Vaticano era contrario perché anche in Vaticano c'erano posizioni anti-atlantiche tradizionali ecco tradizionali per tante ragioni insomma c'era la paura del comunismo e quindi la paura dell'Unione Sovietica tutto quel che volete però legarsi mani e piedi a una democrazia pagana non era tanto condiviso a partire dal segretario di Stato e adesso devo recuperare la cosa che volevo dire insomma cosa si dice ah la c'è e a un certo momento questo dibattito all'interno della democrazia cristiana è duro violentissimo Dossetti era contrarissimo dice perché se noi aderiamo al patto atlantico lo scenario internazionale non è più multipolare ma diventerà unipolare cioè vuol dire che lo strapotere dell'Occidente rispetto all'Unione Sovietica sarà tale per cui tutti saremo assorbiti in una logica imperialistica dell'impero americano e allora l'unico modo è resistere all'adesione per poter insomma spezzare questo Moloch che dopo Yalta era destinato ad unirsi l'America e l'Europa occidentale e di fronte all'incalzare delle argomentazioni di Dossetti De Gasperi parliamo della direzione della DC non ha argomenti e alla fine non ne salta fuori e sostanzialmente ha detto guardate io mi sono già impegnato quindi non posso ritirarmi però le garantisco Dossetti che appena avrò l'occasione io farò tutto il possibile per garantire una situazione internazionale multipolare non unipolare l'occasione era lì che arrivava alla fine degli anni 40 quando a Strasburgo si comincia a discutere lo statuto della cieca De Gasperi vi aderisse ma non è il motore il motore è Schumann il ministro degli esteri francese la cieca è la comunità europea del carbone e dell'acciaio l'unione europea non c'era ancora c'era un embrione di unione europea che si chiamava cieca cioè i paesi che erano usciti dalla seconda guerra mondiale sostanzialmente si sono posti il problema di cominciare a collaborare tra di loro e allora hanno detto come possiamo collaborare mettendo assieme le risorse che abbiamo e quindi il carbone l'acciaio e allora non c'era ancora il petrolio ancora meno l'energia nucleare insomma il carbone l'acciaio e noi non avevamo niente come Italia non producevamo se non marginalmente un po' di carbone pochissimo acciaio e la intelligenza di De Gaspi era stata quella di infilarsi in questo accordo e poi a un certo momento quando cade il governo Pleven in Francia il cui ministro degli esteri era come vi ho detto Schumann a un certo momento questo gruppo che stava costruendo la cieca non riuscì insomma rischiò di sfaldarsi e allora è lì che De Gasperi il rappresentante del governo italiano prende in mano il pallino e comincia a giocare a dirigere il gioco e all'articolo 36 di quello statuto propone un emendamento in cui si diceva sei mesi dopo la ratifica del trattato della cieca da parte dei parlamenti di tutti i sei paesi europei si darà vita a un esercito unico europeo CED Comunità Europea di Difesa perché perché il pensiero recondito era quello di creare una federazione degli Stati Uniti d'Europa in modo tale che voi oggi avreste potuto dire tu che cittadino sei qual è la tua cittadinanza la mia è una cittadinanza europea sono nato in uno staterello che si chiama Italia ma io sono cittadino europeo la federazione degli Stati Uniti d'Europa purtroppo questo disegno si è fermato perché quando i singoli paesi i parlamenti dei singoli paesi hanno dovuto ratificare il trattato hanno cominciato dalla Francia e le posizioni nazionaliste dei comunisti e dei gollisti che rappresentavano la destra parlamentare hanno bloccato l'operazione perché comportava per la Francia una rinuncia alla loro sovranità e capivano quali sarebbero state le conseguenze se tu metti assieme l'esercito perdi la sovranità e nasce una nuova sovranità sovranazionale allora De Gasperi non era ancora successo l'incidente del Parlamento francese De Gasperi cerca di portare avanti la creazione dell'esercito europeo e poi non contento di questo presenta un subemendamento all'emendamento che aveva già presentato in cui si diceva entro sei mesi dalla ratifica del trattato saranno indette le elezioni per eleggere l'assemblea costituente degli Stati Uniti d'Europa siamo nel 1951 50 51 52 quegli anni lì adesso per cambiare una virgola ai trattati dobbiamo riunire 27 paesi e non riusciamo a spostare la virgola e trasformarla in un punte virgola perché ognuno ha il diritto di veto e quindi invece lì siamo arrivati a un millimetro dagli Stati Uniti d'Europa e De Gasperi a un certo momento quando Pacciardi che era il ministro della difesa del partito repubblicano del suo governo gli dice ma ti rendi conto che stai facendo i discorsi di bossi stai vendendo la nostra sovranità e De Gasperi gli dice sto conquistando una sovranità più larga per cui quando saremo tutti sotto l'ombrello dell'Europa io metto il naso nelle vicende tedesche metto il naso nelle vicende francesi loro faranno altrettanto ma anch'io faccio questa e quindi non capisci Pacciardi che io sto allargando il discorso e gli dirà io ho un nebito con Dossetti a cui con cui mi sono impegnato a creare un quadro internazionale pluralistico ecco pluralistico allora sto continuando a fare questo elenco di cose che sono avvenute grazie a Dossetti che pure è stato lì casualmente due o tre anni insomma ma ha fatto il finimondo e poi adesso Don Giovanni vi dirà che cosa ha combinato nel resto della sua vita che è stato più lungo e dove ha combinato molto di più devo dire che ci siamo telefonati alle vostre spalle io e Don Giovanni nei giorni scorsi per metterci d'accordo su come dividerci il lavoro e allora io gli ho proposto ho detto io parlo di politica e tu parla Dossetti cristiano insomma è stato per più di 40 anni monaco e quindi ne hai da raccontare io ho solo 6 o 7 anni di robe insomma quindi sarò più breve ma in effetti un po' ci siamo fregati a vicenda perché il professore Aldigo che era un sociologo di Bologna un giorno disse che c'era il politico nel monaco e c'era il monaco nel politico e quindi dividere Dossetti fra il politico e il monaco è molto difficile perché è sempre stato un po' l'uno e un po' l'altro contemporaneamente però io ci ho provato non so quali siano i risultati grazie adesso mettiti qua perché tocca a te quindi metti il più no no mettiti qua al centro Don Giovanni a te ti ha passato la palla comincia anche tu per cortesia a raccontarci quando l'hai conosciuto Don Giuseppe l'ho conosciuto quando avevo sette anni la guerra era finita da due anni si ricostruiva un po' la politica mio papà era un notaio appassionato di politica era stato anche compagno all'università di Amintore Fanfani e un gruppo si formava per vedere come ricostruire il paese le istituzioni avrebbero sicuramente funzionato l'anima del paese aveva bisogno di ricevere degli indirizzi delle strade da percorrere quindi in questa casa di Mantova dove io abitavo ho visto anche Don Giuseppe che appunto era allora un giovane laico intelligente dotto e quindi così le cose sono cominciate e così c'è stata anche questa conoscenza reciproca tra le vicende della Chiesa e le vicende del nostro paese però bisogna dire che le cose sono andate in un modo straordinario non previsto per come Giuseppe Dossetti ha proposto la realtà del cristianesimo e il senso del far parte di questa realtà di questa comunità perché ha allontanato da sé e quindi dalla sua testimonianza ogni possibile elemento di divisione di contrapposizione di guerra lo stesso titolo cristiano o addirittura cattolico era usato da Don Giuseppe con molta molta prudenza sia perché ognuno deve chiedersi se può dire io sono cristiano sia perché il dire sono cristiano poteva provocare qualcosa che rispondesse dicendo io invece sono questa cosa era talmente forte dentro di lui che riguardava persino la fede io ho la fede l'altro non ce l'ha oppure lui ha la fede e io non ce l'ho ed è qui in qualche modo che possiamo fare un piccolo accenno stasera anche un po' tardi della parte giocata da Sossetti nella sua vita e nella testimonianza cristiana perché propriamente per lui nessuno ha la fede la fede è sempre dono ed è sempre talmente dono che il verbo avere è improprio è inopportuno si fa fatica penso che anche alcuni di noi insomma io certamente molto abbiamo sperimentato questa impossibilità di usare il verbo avere per il termine della fede e quindi tutto questo lo ha portato a enfatizzare la chiamata di Dio e ad abbassare il più possibile tutto quello che poteva esprimere delle condizioni delle esigenze allora se vuoi entrare nel gioco non devi essere così e devi essere così e questo però sempre per cui non non c'è nessuno che possa dire con certezza io sono cristiano e penso che anche questa cosa che dico senza avere il dono di conoscervi personalmente credo che sia abbastanza vera poi per tutti perché chi ha il coraggio di dire che sono cristiano ci sono degli elementi esterni importanti certo che ci dicono una storia un legame un'appartenenza ma la realtà del cuore e questo ha fatto sì che l'annuncio la testimonianza e la proposta di fede di Dossetti proprio perché non avere degli spazi definiti e sicuri come per dire si parte da qui per conquistare qualche cosa costruire qualche cosa ma tutti in viaggio siamo e quindi la dimensione fondamentale non è tanto quella della persona che può dire io ho la fede a meno che non dica che la fede è una chiamata di Dio o un appello di Dio e che io sono lontano da questa fonte e sto cercando di camminare anzi dico addirittura di più e cioè che io non sarei capace di camminare ma il buon Dio stesso in questa faccenda che chiamano lo Spirito Santo vedo che mi viene a trovare che mi suggerisce delle cose che mi ha insegnato a piangere che mi ha insegnato persino che cosa possa essere pregare chiedere cioè è vero e anch'io quindi sono in cammino e quindi la nota fondamentale secondo me della chiamata alla fede e del dono della fede è stata sempre questa perenne mobilità come se dovessimo sempre fondamentalmente convertirci e come se dunque la fede fossere un dono di Dio sempre nuovo che cambia nelle circostanze storiche perché io mi trovo a un'età diversa in una situazione diversa eccetera e quindi e questo è delicatamente importante il cammino verso la fede è necessariamente sempre una conversione perché io non sono quello che secondo Dio potrei essere e non ho quello che come credente dovrei avere e quindi la condizione fondamentale del credente è la povertà noi siamo tutti poveri e quindi proprio per questo siamo cercati e chiamati e presi per mano da Dio questo è l'elemento in qualche modo fondamentale importantissimo vero perché quindi non non si può più fare la distinzione io ho la fede io non ho la fede ma la vita diventa una perenne proposta di movimento questo movimento possiamo chiamarlo anche conversione se volete però qualche volta il termine potrebbe sembrare inadatto sei arrivato tu ma che è arrivato sono in viaggio sono in viaggio e questo viaggio a un certo punto finirà sì finirà però io ho quasi 82 anni e sono in viaggio è vero sono in viaggio domani mattina dovrò presiedere la liturgia nella mia parrucchietta e per arrivare a questo dovrò fare anche se pur breve con un po' meno ore di riposo dovrò fare questo viaggio quindi è la proposta di una comunità cristiana che non si trova mai nella possibilità di autodefinirsi come una realtà determinata precisa certamente abbiamo il grande dono dei sacramenti però anche quello che cosa è stato il mio battesimo di 82 anni fa come l'ho vissuto 60 anni fa e com'è questa sera tutti siamo sempre in movimento ognuno di noi è incessantemente chiamato alla conversione puoi dire io sono cristiano lo puoi dire però con timidezza con una certa apprensione con il desiderio in qualche modo però di precisare perché non credere che dunque io è certo perché io quello che sono sono sempre un peccatore ho sempre bisogno di essere salvato è vero la nostra vita è sempre orientata alla salvezza ma a partire da questo succede un fatto molto interessante che quindi dal punto di vista esterno direi quasi sociologico a un certo punto faremo una lista e fisseremo un numero di quanti sono pressa poco i cristiani ma perché sono arrivati sono in viaggio e quelli che appartengono ad altre fedi per quello che mi riguarda sono in viaggio io non li fermo nella loro condizione attuale e come il signore continua a chiamare me penso che il signore continua a chiamare lui e quindi non siamo mai arrivati ma allora la chiesa che cos'è non c'è mai niente di sicuro eh no è sicurissimo è sicurissimo perché il dono di Dio c'è lo amministra chi non lo meriterebbe chi è infedele lo annuncia chi è un testimone molto scarso ma però certamente c'è un appello noi che siamo qui questa sera non pochi anche dato le epidemie forse siete un po' imprudentelli ma siamo qui non pochi ma siamo tutti persone sicuramente che avvertono la loro appartenenza cristiana come una non appartenenza come una chiamata come un'ipotesi di conversione è vero e a 82 anni appunto anch'io sono preoccupato di convertirmi ma convertirmi è un verbo sbagliato perché perché la fede è infinitamente più grande di me non posso pensare di prenderla e di comprenderla posso solo pensare di riceverla in regalo ora tu per fortuna ci sei e sei il regalo che mi aiuta un bambino sente questo annunzio questo aiuto nella sua mamma io ho bisogno di tanti miei fratelli e sorelle perché senza di loro non potrei fare questo cammino e quindi c'è questa beatitudine preziosissima della povertà beati i poveri in spirito dice Gesù e qualche volta però è arrivato a dire beati voi i poveri insomma è vero che vuol dire che il gioco che ci è stato proposto è infinitamente più grande chi è arrivato e quindi no è chiarissimo quello che stai dicendo che è il profilo spirituale della vicenda di Don Giuseppe noi siamo qua in terra di Bergamo in terra di Bergamo ha avuto un grande Papa che è Papa Giovanni XXIII l'11 ottobre di 59 anni fa quindi come oggi lui tende il discorso di apertura al concilio Vaticano II un discorso memorabile Don Giuseppe partecipa partecipa in quanto il cardinale Lercaro è uno dei quattro moderatori del Vaticano II quindi il suo vescovo quello di Bologna lo porta con sé a Roma allora tu che hai conosciuto Don Giuseppe qual è stato l'apporto di Don Giuseppe al Vaticano II? Beh è stato un apporto molto grande perché perché non erano pochi i vescovi che si facevano preparare i loro interventi al concilio proprio da lui a partire dal suo arcivescovo perché certamente si trattava di una persona non solo di profonda fede ma anche di profonda cultura diciamo ecco di profonda anche capacità di trasmissione lui che per primo si sentiva un non arrivato però sapeva interpretare in modo profondo la vita di ogni cristiano perché ogni cristiano è un non ancora arrivato è vero ogni cristiano è una persona che dice bisogna che mi converta io ho pochissimo tempo ancora per convertirmi quindi mi affido anche alla vostra preghiera affettuosa perché ci terrei insomma ci terrei a passare bene di là e ci terrei a passare bene di là perché gli voglio bene perché l'altra caratteristica profonda della fede così come Don Giuseppe ce l'ha insegnato è stato il voler bene l'amore ma non è stato prima di tutto il comandamento di amare ma la realtà l'esperienza la meraviglia dell'essere stati amati e dell'essere amati quindi anche questa vicenda dell'amore è una grande conferma del cammino che Don Giuseppe proponeva a noi suoi figli cioè a dire la riscoperta dell'amore che è interessante anche perché molte volte posso usare di dire quasi sempre precede la fede e perché adesso puoi dire che stai camminando nella fede perché qualcuno che ti voleva bene ti ha comunicato il dono e anzi lui non ti ha detto neanche ti voglio bene ma sei tu che hai conosciuto l'essere voluto bene per quello che quella persona ha regalato alla tua vita ora questo ci porta a una ipotetica conclusione che è quello di dire che quindi l'amore prima di tutto è essere amati e questo è il dato decisivo delicatissimo per esempio un bambino appena nato è importantissimo che riceva molte carezze molte dolcezze molti sorrisi non puoi troppo analizzare quello che lui può capire puoi analizzare quello che tu hai dentro nel cuore e riversi nella sua vita noi siamo qui questa sera ma non ci saremmo se non fossimo stati amati il fatto che noi siamo qui in questo momento intorno a queste parole a quelle che abbiamo già ascoltato a quelle che agli affetti che ci aspettano quando ci alzeremo da qui per tornare a casa tutto è dono della nostra vita le ferite più gravi dell'umanità non derivano dal fatto che la gente è viziosa è cattiva beve troppo le piace rubare ma se si va dentro nel fondo della sua storia si scopre che tutte le nostre ferite piccole o grandi tutti quelli che noi chiamiamo i nostri difetti o i nostri vizi sono certamente colpa nostra ma sono stati forse provocati da qualche carenza d'amore e in ogni caso possono essere superati se e perché siamo voluti bene tutto questo però è un movimento è vero è un movimento allora questo cosa provoca anche in una persona in un'anima come quella di Don Giuseppe che la stessa divisione delle religiosità deve essere in qualche modo esaminata ci sono delle diversità anche che hanno una certa oggettività ma in fondo anche le cose che stiamo cercando di mettere insieme questa sera sono un po' diverse da un cristianesimo di 50 anni fa di un numero qualsiasi insomma dove magari si aveva l'impressione che le cose bisognava molto più meritarsele è vero e invece questa sera tendiamo a dirci che tutte queste cose soprattutto ci sono regalate non sono degli assoluti sapete vanno tutti risistemati nella storia comune e di ciascuno di noi però l'interessante è che infatti la storia del cristiano da un qualche decina di anni viene più comunemente intitolata come storia della salvezza allora non è bello non chiedere semplicemente raccontami la tua storia ma raccontami la tua storia della salvezza e approfitto dell'occasione ma poi finiamo perché non voglio disturbarvi troppo è una cosa importantissima ricostruirla questa storia della salvezza e quindi io vi prego anche quando avete un po' di tempo la possibilità addirittura magari di mettere giù una piccola nota scritta ma soprattutto di riempire la vostra mente e il vostro cuore la memoria di quei luoghi della salvezza di cui Dio si è servito per visitarvi e per farvi crescere noi non saremmo qui questa sera se non avessimo vissuto esperienze importantissime dell'amore quindi il problema più grave nelle cose che ci stiamo dicendo è il tema dell'amore c'è sempre troppo poco amore noi stessi diamo sempre troppo poco amore ce ne distraiamo ci preoccupiamo siamo anche un po' feriti da una certa competitività dell'esistenza che ci mette sempre nella condizione che bisogna vincere se non passi almeno al sei meno sei bocciato e quindi preoccupazione nostra sgridata ai nostri fratelli piccoli o ai nostri figli devi fare devi fare devi fare è anche bene credo qualche volta chiederlo con severità ma non bisogna dimenticare che la forza unica che porta avanti queste cose è soprattutto l'amore questo ha portato una conseguenza molto grossa anche nell'esperienza spirituale di Don Giuseppe perché progressivamente si sono affievolite anche le competenze di religioni diverse e quindi la diversità religiosa è entrata sempre di più dentro a un altro tipo di osservazione e di giudizio dove in qualche modo abbiamo sentito sempre di più la precarietà e bisogna dire la fragilità di una religione interpretata come una costruzione personale della propria salvezza è vero che allora non è più salvezza ma è tua conquista vero e invece è proprio solo salvezza è quello sguardo di tua madre è quella vicenda dove hai incontrato per la prima volta in modo anche profondo il perdono e quella situazione anche della tua anima del tuo cuore per esempio quella cosa bellissima nella vita che soprattutto nella giovinezza è l'innamoramento è perché c'è qualche cosa che ti invita che ti prende per mano che ti invita a camminare insieme e quindi la tua vita è tutta diversa perché sei stato molto amato poi sei cattolico sei anglicano sei ateo questa esperienza va sopra a tutte queste diversità questo esigerebbe anche una grande maggiore attenzione alla porta aperta per tutti per me è importantissimo che essere qui questa sera con il regalo di essere qui con voi in questo giorno che ricordandoci in modo importante una persona come il Papa Giovanni ci riporta a quella che è stata se essendo io molto vecchio un'esperienza importantissima della mia giovinezza ed è stata la grande diaconia dell'amore che questo vostro bergamasco ha regalato al mondo intero per cui alla fine ci sono le diversità religiose ci sono anche delle diversità molto grandi molto profonde certe volte anche gravi ma noi siamo chiamati e in particolare direi oso dire questa sera a riportare tutto a un livello di essenzialità e quindi se c'è quel tuo fratello o quel tuo figlio che non crede neanche nel gatto la cosa importante però è che anche lui sia sedotto dal mistero del voler bene e del mistero dell'amore e anche quando un altro tuo fratello ti dice no io voglio bene ma la fede non so neanche che cosa sia pazienta e continuo a ringraziare Dio per quel dono d'amore che gli ha lasciato perché la strada della conversione sarà alla fine sempre quella noi siamo salvati perché siamo amati non siamo salvati perché non facciamo i peccati non siamo salvati perché Dio ha stabilito delle indulgenze colossali non siamo salvati perché io sono andato a Roma a San Pietro a fine San Pietro a piedi partendo da Bologna ma perché siamo voluti bene l'esperienza fondamentale della fede e quindi dell'amore come questo episodio meraviglioso dell'essere voluti bene grazie grazie proprio un'ultima domanda così poi lasciamo liberi gli imprudentelli avete visto come va nominato e è questa la chiederei prima Pierluigi prima tu hai citato dei nomi di padri costituenti parlato di Leglio Basso Palmero Togliatti Lapira Moro Fanfani di Vittorio che se uno guarda lagone politico attuale un po' di scoramento gli viene no? allora la la domanda molto semplice tu dove vedi cosa resta di Don Giuseppe dov'è l'attualità o la sfida che ancora oggi pone alla politica Giuseppe Dossetti cinque minuti a testa così poi chiudiamo vabbè io intanto sono contento di essere venuto stasera per tante ragioni perché siete della bella gente Daniele è bravo insistente quindi sono due anni ecco sono due anni ma soprattutto perché consentitemi perché ho ascoltato anche stasera Don Giovanni vedete qualunque fosse stato il tema di stasera Don Giovanni avrebbe fatto questo discorso abbiamo capito che abbiamo capito che a diventare vecchi è una cosa è un'esperienza che io condivido insomma si è sempre più concentrati sulle cose che contano e tutto il resto se avete delle curiosità andate su internet ma insomma io vi parlo della fede ecco e quindi è stata veramente una cosa veramente molto bella questa sera proprio ecco perché ci ha parlato della fede noi non riflettiamo mai su questa cosa che sostanzialmente ci ha detto è cercare 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 poi moriremo cercando però insomma siamo morti nell'unica nell'unico modo che ha dato dignità anche alla nostra vita sempre continuare a cercare quindi io gli sono molto grato e adesso vengo alla domanda che non mi ricordo qual era ma insomma l'attualità è la sfida sì l'attualità e non so se ci sia attualità perché dobbiamo anche essere onesti nel capire che questi grandi personaggi hanno dato una loro risposta politica nel loro tempo politico e quando io sono stato l'ultimo segretario del partito popolare quando sento dire ma perché dobbiamo tornare a Sturz ma per far che insomma Sturz è stato un grande nel suo tempo ma nel suo tempo quando si trattava di liberare i cittadini cattolici di metterli in condizioni di poter fare politica e la Chiesa diceva di no perché c'era ancora il non expedit cosa c'entra con oggi insomma non è mica questo il problema lo fammi girare la domanda del pensiero politico di donne no ma arrivo arrivo ho presente la domanda furbo Castagnetti è fuori discussione quindi che non c'è attualità di risposta politica del Dossetti del 45 o del 50 con oggi oggi vedete mi rivolgo soprattutto ai giovani ci sono due cose che ai tempi di Dossetti di Togliatti di De Gasperi e di Nenni non si pensavano neanche c'è stata la globalizzazione che è stata una cosa molto importante per cui ha ridicolizzato i discorsi i discorsi sul sovranismo insomma dove volete andare da soli in Italia cosa vuoi mai che faccia da soli il mondo è una roba sola insomma quindi se vogliamo progettare un po' di futuro dobbiamo farlo insieme agli altri insomma quindi la globalizzazione e la rivoluzione digitale la rivoluzione digitale ha cambiato persino l'essenza della democrazia perché la democrazia è partecipazione e oggi noi siamo ancora lì a dire le sezioni i circoli ma tanto non sono frequentati quindi potete chiamarli come volete non ci va nessuno perché io vi ricordo che assieme a Violante in una chiusura di un corso di formazione per i giovani del Partito Democratico c'è stato un ragazzo che ha posto a tutti e due la stessa domanda ma come vedete il rapporto fra politica e rete e tutti e due abbiamo dato la stessa risposta abbiamo detto ma la rete è un'occasione importante per partecipare visto che adesso la gente non partecipa più va a votare meno del 50% della gente quindi a votare figuriamoci a votare dentro un partito in chi ci va siamo quattro gatti no? e visto che non partecipa più quindi attraverso la rete potete partecipare direttamente e siamo stati sepolti da una crassa risata dai ragazzi che ponevano la domanda come a dire ma come si capisse che appartenete a un altro secolo cosa storicamente provata documentata era vero che appartenevamo e continuiamo ad appartenere a un altro secolo noi non vogliamo usare la rete per partecipare alla vostra politica noi vogliamo usare la rete per decidere non per essere consultati ma per decidere allora questa roba ha messo in crisi i partiti i sindacati le associazioni persino le acri gloriose di Bergamo insomma perché la gente allora dobbiamo fare i conti con questo mondo insomma e con questa realtà e poi dobbiamo cercare di capire guardate noi abbiamo la fortuna di un papa benedetto come è stato benedetto Giovanni XXIII per inciso parlando di Dossetti andatevi a leggere la descrizione del conclave che ha eletto Giovanni XXIII fatta da Giuseppe Dossetti che è molto interessante insomma sostanzialmente dove dimostra che Giovanni XXIII l'hanno eletto perché non lo conoscevano perché se l'avessero conosciuto ma lo Spirito Santo utilizza anche questi strumenti insomma e dunque insomma l'altro papa interessante è quello che oggi è a Roma e guardate che questo momento che è a Roma che insomma ogni tanto se voi leggete c'è un giornale in particolare su cui scrivono alcuni presunti sedicenti esperti insomma dicono ma insomma questo papa è senza dottrina no? perché parla in modo semplice insomma invece prima avevamo un papa che era pieno di dottrine eccetera eccetera perché nella storia della Chiesa insomma c'è questo di bello che variano le condizioni le situazioni ebbene questo papa ha detto tra l'altro che la realtà viene prima dell'idea può sembrare una frase fatta ma è la rivoluzione cavolo noi siamo sempre stati educati alla centralità della dottrina ai discorsi sui valori quelle robe lì insomma che vengono prima come vengono prima? cioè vengono prima dell'uomo vengono prima dell'uomo credente ma sempre più numericamente maggioritario non credente come? no la realtà viene prima dell'idea sia anche sia essa l'idea cristiana l'idea che desumiamo dal Vangelo la realtà noi adesso abbiamo delle robe il referendum sull'eutanasia oè la maggioranza insomma un milione duecentomila firme in pochi giorni ma lo conoscevamo questo paese cioè voi delle acli lo conoscevate questo paese voi preti lo conoscevate questo paese e se non conosci la realtà non puoi fare la politica secondo me non puoi fare neanche la pastorale se non conosci la realtà allora bisogna che noi capovolgiamo il nostro modo di ragionare quando diciamo oggi Dossetti gli ultimi punti fermi che io ricordo sono quelli della Costituzione tenete sempre in mente ragazzi che i vecchi costituzionalisti definivano la Costituzione in questo modo è la legge che i popoli si danno nei momenti di loro maggiore saggezza per difendersi dai momenti di loro maggiore dissennatezza anche che in questa legislatura l'Italia è stata salvata dalla sua Costituzione chiaro? e Dossetti l'ultimo messaggio amatela la Costituzione perché è stato ispirato un laico come Benedetto Croce che era un laico filosofo maestro della filosofia prima del voto finale della Costituzione ha fatto il segno di croce e ha recitato il veni creato per dire su questa assemblea credenti o non credenti dobbiamo sollecitare chiedere l'ispirazione di uno spirito superiore voi lo chiamate spirito santo io dico una cosa superiore che ci ispili che ci unisca quindi questo per dire e allora Dossetti ha detto attaccatevi alla Costituzione se vi attaccate alla Costituzione pian pianino le cose si aggiustano voi pensate questa legislatura che è cominciata con la maggioranza del Parlamento che non si riconosceva nella Costituzione perché i due partiti che avevano vinto le elezioni non si riconoscevano per ragioni storiche obiettive nella carta costituzionale non si riconoscevano nell'Europa e finiamo la legislatura con il capo del governo che era l'ex presidente della Banca Centrale Europea pazienza pazienza non disperare mai le cose trovano la strada per aggiustarsi la Costituzione ci aiuta ecco questo è molto importante questo è stato il messaggio ultimo di Dossetti e poi quello che ha lasciato a Bailamme che era una rivista curata da Giovanni Bianchi e altri Salvatore Natoli e quel gruppo lì alla fine gli chiedono ma insomma ai tempi voi avevate messo insieme i migliori le teste migliori le eccellenze del paese vi trovavate a casa del filosofo di Milano del professor Padovani e compagnia bella insomma pregavate poi nella comunità del Porcellino pregavate poi dopo facevate assieme simulavate i dibattiti nell'assemblea costituente facevate le proposte gli emendamenti insomma avevate delle idee adesso quali sono le idee e Dossetti dice convocate delle intelligenze giovani io appartengo a un altro secolo erano il novecento quindi voleva dire che apparteneva all'ottocento io non posso dare la risposta ai problemi vostri di oggi convocate intelligenze nuove e lo dico a quelli della mia generazione o dintorni abbiamo poco da insegnare se non la costituzione l'etica nell'esercizio della politica ma per il resto dobbiamo fidarci e affidarci ci sono dei giovani molto bravi intelligenti quando io vado a fare l'assemblea nelle università sono sempre sorpreso quando si apre il dibattito perché ci sono veramente delle teste pensanti anche tra i giovani di oggi come allora e quindi fidiamoci e affidiamoci nel senso che loro sono gli interpreti di questo tempo la nostra generazione è quello che ha potuto fare l'ha fatto e adesso si affidi grazie Giovanni chiudi tu quando quando ascolti Papa Francesco l'argentino come lo chiami quali intuizioni di Don Giuseppe ci trovi dentro in modo potente ci trovo l'umanità no l'umanità con la U maiuscola o anche con la U minuscola ma avverto il fratello e il padre e quindi lo ricordo poi un po' nella preghiera per chiedere al Signore che venga ascoltato e accolto perché è un fratello che il Signore ci ha mandato adesso e che attraverso questo mi pare si fa vicino a ciascuna delle nostre esistenze dei nostri problemi delle nostre speranze avviando una conversazione fraterna che mi sembra sempre più importante per cui se anche nei luoghi dove viviamo riuscissimo a far raccogliere sempre qualche espressione del giorno qualche notizia qualche proposta e ci meditassimo sopra credo che ne trarremo un gran bene non solamente per noi ma anche per il mondo nel quale viviamo grazie 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 una serata di assoluta qualità e abbiamo restituito l'immagine di un uomo di un credente che ha attraversato da gigante il novecento che però consegna a noi la responsabilità davvero dell'oggi all'uscita chi vuole c'è questo testo molto bello di un dialogo tra Romano Prodi e Don Giovanni Nicolini altrimenti ci sono le pubblicazioni di molte fedi venerdì è uscito un magnifico libro di Don Davide Rota a commento del libro di Giobbe io ringrazio il cuore a voi tutti imprudentelli e ringrazio anche i moltissimi che in streaming ci hanno seguito buonanotte arrivederci grazie a tutti a presto a presto mi Grazie a tutti. Grazie a tutti.